Lucca, capoluogo di provincia, ma anche capitale dei lanci. Per il terzo anno consecutivo, che se non è un record poco ci manca, sarà l'impianto Moreno Martini, con l'organizzazione della Virtus Cassa di Risparmio, ad ospitare i campionati italiani assoluti di lanci. E quando parliamo di lanci, ovviamente ci riferiamo a martello, disco e giavellotto. Il peso trova una sua collocazione naturale anche in doro, in sala. Tre le categorie interessate da legare in programma sabato 22 e domenica 23 febbraio per una due giorni di grande atletica. Scenderanno in pedana le categorie giovanile, che raggruppa allievi junior, la categoria promesse e quella assoluta. Tanti gli atleti di livello che vedremo all'opera, con una sicura assenza, quella di Giacomo Puccini, che dopo l'operazione in cui si è sottoposta ai primi di settembre, all'epoca non sarà ancora pronto. Lo rivedremo solo ad aprile. Sul fronte lucchese da seguire con interesse è la prova del giovane Edoardo Bertolli, nel disco campione italiano cadetti, e al primo anno d'allievo, costretto a misurarsi con avversari più grandi di lui. Ma il giovane Ottone di Barga potrebbe anche sorprendere. La Virtus Lucca calerà altre due carte, sempre nel disco Federico Pic tra le promesse, che dopo un 2013 piuttosto altalenante, si spera possa fare il salto di qualità. E l'intramontabile Emilio Filippi, che punta ad entrare nella finale ad otto nel martello assoluto, dove naturalmente il grande favorito rimane Nicola Vizzoni, che avrà come obiettivo stagionale i campionati europei di Zurigo, che sono una sorta di mondiale e olimpiade. Vizzoni seguirà in modo interessato la prova della sua pupilla Michela Mariani nel martello femminile, mentre Martinelli e gli altri dirigenti Virtusini si coccoleranno con gli occhi la gara di Giacomo Grotti, il giovane gigante di Camaiore che gareggia per la Libertas Runners di Vorno, ma che in futuro, a breve termine, potrebbe vestire proprio i colori della Virtus.